Lei sapeva delle cose che soltanto Roger e io sapevamo. Ho chiesto... Hai chiesto cose che si sono verificate in questa casa, cose che tu e lui avete detto e fatto quando abitavate qui. Conoscevano le risposte perché erano qui, in questa casa anche allora. Vi hanno osservato. Ci trasferiremo, lasceremo la casa. Il problema non è questa casa. Ormai non più. Ho chiamato l'Arcidiocesi. Il Vaticano dispone di persone che indagano su questi fenomeni. Chiederò di autorizzare un esorcismo. No, non dica nient'altro. Loro ci hanno osservato per tutti questi anni. Hanno osservato tutto quello che facevamo. Vuol dire che ci stanno osservando anche ora.